Arriva anche a Napoli lo store di Enel X, la business line del gruppo Enel che opera nell'ambito della fornitura e dell'efficientamento energetico. Nei locali inaugurati a Via Duomo, dove lavorerà un team di circa 20 persone tra consulenti di vendita e tecnici installatori, cittadini e imprese hanno la possibilità di valutare nuove opportunità e servizi all'insegna dell'efficienza e del risparmio energetico. Presenti all'inaugurazione il sindaco Gaetano Manfredi e Salvatore Amato, titolare del punto Enel X Store. È una bella iniziativa, Enel X sta facendo un grande piano anche di investimento in città sulla transizione ecologica, sul risparmio energetico, un modo per stare vicino alle famiglie e suggerire delle soluzioni che consentono la riduzione del costo in bolletta e garantiscono anche una maggiore educazione ambientale. Questa è una transizione che richiede un grande supporto da parte dell'industria privata e che possa dare quegli strumenti al cittadino per poter avere opportunità, aver risparmio in bolletta ma anche garantire un miglior rapporto con l'ambiente. Offriamo la nostra professionalità ai clienti, non il solito call center, non per il call center ma perché spieghiamo realmente alla mano i costi consumi e il risparmio che si può fare.